buongiorno buona domenica qui piove non so da voi ovviamente la domenica quando non lavoro piove sempre comunque ribuongiorno sono qui a prendermi il caffè sono scesa aspettate che vi faccio vedere questo è il bar non so se si vede mi sono fermata perché non potevo girare con camminare con la telecamera e per la forte emozione la volta scorsa non mi sono messa la cintura mi avete anche un po ripreso mi avete fatto bene perché mi ero emozionata per mantenere la telecamera non sapevo come come fare mi ero dimenticata la cintura allora ho detto siccome non ho ancora un appoggio e ho visto che il vlog vi è piaciuto ho pensato oggi ne faccio un altro e vi voglio portare con me in questa giornata un po tra lavoro casa lavoro perché perché stamattina dopo che mi prendo il caffettuccio mi vado cioè mi vado vado alla celletta perché non solo ho delle cose da finire per quanto riguarda la scuola perché martedì vengono a prendersi a ritirarsi i pacchi perché partono per milano quindi devo finire di pulire i pennelli devo preparare il restante delle cose perché anche se domani ho mezza giornata la mia collaboratrice l'altra mezza giornata è un po difficile che tra la vendita mettere a posto potrò comunque riuscire a preparare tutto e quindi stamattina vado lì oltremodo ieri mi sono arrivati tutti i diciamo i pacchi della nuova collezione Chanel e vai quindi nella pratica vorrei vedere che cosa è arrivato perché vorrei girare un video prima di vorrei oggi cercare di girare un video in tutto questo poi oggi vorrei andare al cinema a vedere o Exodus oppure quell'altro del cecchino adesso di non mi viene una cosa che non è il titolo esatto e quindi ho deciso quante cose devo fare oggi ma comunque ora dopo il caffettuccio devo andare alla celletta e devo comunque fare queste cose quindi vedrete un po' perché vi mostrerò in che stato è il mio negozio perché per partire la scuola ovviamente stiamo chiudendo tutti i pacchi alcuni ancora sono da imballare altri invece sono chiusi e partono 9 pacchi perché comunque la scuola è di 13 persone quindi sono molto molto contenta e quindi il materiale ci vuole portare la mia scuola di Napoli a Milano non è un'impresa facile quindi è in uno stato un po' di caos poi ieri essendo sabato è un giorno dove si lavora tanto quindi potete bene immaginare che le clienti gli scatoli, la robbie, i regali, le collezioni nuove, il trucco, le creme e quindi i pacchi che poi domani dovrò andare a fare perché ho delle spedizioni che devo fare e quindi anche questo sta diciamo devo mettere, devo preparare quindi ho alcune cose da fare e ho deciso che partirò sabato prossimo e la mattina perché avanderò ad allestire la sala poi mi vedo con i miei amici di Milano, la domenica ho la scuola, penso che dopo andremo a pranzo fuori tutte quante insieme o ancora non abbiamo stabilito e domenica, cioè domenica, lunedì mattina mi vedrò con la mia amica Teresa e poi a ora di pranzo prendo l'aereo per partire perché poi non solo ho lunedì sera una cena ma allo stesso tempo devo comunque una cena di lavoro ma allo stesso tempo devo tornare perché inizio a lavorare e inizierò a preparare la mia scuola di Napoli dite voi quante cose da fare, e beh sì comunque adesso urge il caffettuccio e quindi niente ci vediamo eccomi sono nella celletta e adesso vi mostro perché ho aperto, ho preso il caffettuccio e quindi se solo guardo mi raccomando eh, troverete un poco poco di caos, cioè per me questo è un caos esagerato anche se però devo dire la verità, finalmente martedì avremo un po' più di respiro quindi tatam, allora ecco qui gli scatoli, una parte degli scatoli per la scuola che sto tutto sistemando questo è tutto Chanel che mi è arrivato ieri che ovviamente ne ho aperto uno solo per vedere se dalla bolla era quello però ovviamente queste sono le buste, questi sono poi i cartelli che mi dovrò portare questo è ancora tutto da riempire con le carte a bolle e quindi qui vabbè abbiamo ancora diciamo sempre la stessa cosa un po' diciamo da finire di mettere a posto stiamo tutto inventariando poi dopo Natale sono finite un po' di cose e quindi ci sono vari buchi e niente adesso domani chiuderemo questi qui, alcuni già sono chiusi altri invece li chiuderemo stesso domani pomeriggio, adesso mi metto a lavorare per i pennelli per pulire i pennelli e finisco di scrivere delle mail perché ho delle mail da rispondere e poi dopo torno a casa quindi oggi pranzo tranquillo a casa e nel pomeriggio invece incredibile ma vero ho detto a mio marito che volevo andare al cinema e volevo andarmi a vedere o Exodus oppure quello di oddio ve l'ho già detto ma non me lo ricordo comunque quello del cecchino quindi a lui piacerebbe più andare a vedere quello ovviamente a me è indifferente tanto mi piacciono tutti e due e poi spero prossimamente non so quando anche di andare a vedere big eyes, si io certe volte mi dimentico le cose, i nomi dei film o di troppe cose da pensare e quindi quello a proposito vi volevo far vedere questa borsa che poi ovviamente vi farò un videollo, eccolo qui l'ho presa nei saldi quando sono andata quando la celletta era chiusa e dipinco guardate che carina quindi mi piaceva farvela vedere comodissima eccola qua e al manici comunque in pelle, mi è piaciuta e siccome ovviamente ragazzi io sono una sfigatata di borse cioè io le adoro di tutte le salse, tutti i tipi, tutti i modelli, scarpe e borse sono la mia passione me la sono presa quindi veramente bella capiente e bella, mi è piaciuta molto quindi è stato diciamo un acquisto che ho fatto e che poi nei saldi vi farò vedere delle altre cose che ho preso quindi farò un video haul apposito e fatto appositamente per mostrarvi le cose che ho preso eccomi qui, ho finito di lavorare, ho pulito tutti i pennelli e adesso torno a casa, prima di ieri sera già ho un po' cucinato adesso ho messo innanzitutto cintura, ecco, la ho messo la telecamera in un modo che spero non cadi e quindi almeno posso parlare con voi mentre torno a casa e speriamo perché questi, diciamo, esperimenti li sto facendo per la prima volta con voi allora, ho pulito tutti i pennelli, regna un caos sovrano, ve lo voglio dire perché poi, aspettate che giro perché poi fondamentalmente ci sono scatoli contro scatoli e ho preso poi il campionario di Chanel aspettate che stavo controllando anche se avessi preso il cipare ecco qua la presentazione del trucco di Chanel, come dicevo che ha fatto dei colori veramente meravigliosi quindi vedremo un po' come si presenta non l'ho ancora sbocciato se non a dicembre quando l'ho ordinata, agli inizi dicembre quindi me li ricordo ma non è che posso ricordarmeli proprio bene e quindi sono curiosa di provarli quest'anno sarà proprio l'anno del rosa, del prugna, del marsala sotto tutte le sue forme e quindi un tripudio di colori che emanano proprio la primavera che secondo me incitano a dire le belle giornate quando arrivano a parte che oggi piove a dirotto cioè veramente una giornata uggiosissima che mi mette anche un po' tristezza però comunque io detesto la pioggia non tanto l'inverno, perché l'inverno bene o male uno si copre, mette dei maioni più caldi sta in un ambiente riscaldato ma vi devo dire la verità proprio, cioè non posso proprio sopportare la pioggia forte di me, eppure tantissima gente ama la pioggia ma non saprei dirvi e adesso che torno a casa poi ho già preparato diciamo il pranzo per oggi perché comunque ieri sera non siamo usciti in genere io il sabato non è che amo moltissimo uscire perché i locali sono troppo troppo affollati anche se poi devo dire che è carino però preferisco anche durante la settimana va più che bene e ho preparato un primo piatto con un po' di ragù non di quelli proprio come si dice da noi a Napoli tirati perché mio marito comunque ha dieta però oggi poteva mangiare la carne e quindi io ho preparato le salsicce con il finocchietto buone e peperoni al gratin quindi al forno quindi una cosa anche abbastanza leggera quindi stop questa è l'unica cosa che è il nostro pranzo domenicale e nel frattempo volevo dirvi una cosa perché ci tenevo che voi la sapeste e è un proposito per il mio 2015 un buon proposito che spero riesca a mantenere perché è una cosa veramente grandissima ma era un pallino che io avevo da tempo e quando diciamo all'età di 18 anni mi diplomai avrei voluto farla ma non l'ho potuta fare e quindi adesso ho detto erano 2-3 anni che ci pensavo o adesso o mai più e quindi mi sono iscritta all'università e voi direte sei pazza folle ma io sono troppo contenta perché era un desiderio avrei voluto fare economia e commercio internazionale diciamo se non fossi diventata una ballerina nel senso che se non avessi continuato a ballare sarei andata comunque ci sarei andata mi sarebbe piaciuto lavorare alle Nazioni Unite poi non so bene in che ramo che però sarebbe stato un piccolo sogno purtroppo la vita mi ha portato a fare tutt'altro che oggi sono felicissima però non era ciò che io desideravo fare ma non è che si può avere tutto anche se oggi ho fatto di tutto per migliorarmi per essere quel che sono e per andare avanti e soprattutto per per migliorarmi sempre di più ma mi sono iscritta all'università di economia e commercio economia e managgiamento aziendale quindi università online e mi sono data tempo un anno perché voglio provarci voglio tentare sono sei o sette esami all'anno io se già ne faccio quattro per me è un record assoluto per tutto quello che già faccio sapete tra la scuola la scuola mia di Napoli il lavoro il blog comunque fai video io comunque anche ho una vita diciamo personale nel senso che sono sposata e giustamente lavorativa cioè anche familiare oltre che lavorativa e quindi è stata una scelta non facile diciamo che mio marito all'inizio non era molto d'accordo perché diceva ma il tempo non il tempo poi comunque hai tante cose da fare giustamente c'è lui però io non voglio avere né rimpianti né rimorsi rimpianti sicuramente sì ma rimorsi di non averci provato no quindi adesso mi sono iscritta e domani anzi in questi giorni saprò già il verrò affiancata da un tutor quindi che mi aiuterà proprio nella diciamo nella materia e penso di partire con economia politica quindi un esame bah ieri mio marito mi ha portato tutto il fascicolo con la dispensa e quant'altro e sono 157 pagine più le slide che ancora devo andare a vedere che mi sembra ne sono 17 o 18 devo dire che la cosa mi ha inquietato un pochettino ho un po' d'ansia in questi giorni perché la paura comunque di non farcela è grande la prenderò sicuramente diciamo col sorriso sulle labbra non mi farò problemi nel senso che farò tutto quello che posso però sapete che ad un'età più adulta e soprattutto poi queste università online non sono economiche per niente diciamo mi sono giocata un po' le vacanze un po' tutto però va bene comunque così sono felice era una cosa che desideravo farla ci voglio provare mio marito l'ha capito che è una cosa che per me è importantissimo e quindi io volevo condividere con voi tutto questo come si dice in napoletano papiello cioè discorso di quello che andrò a fare nei prossimi mesi non toglierò nulla ve lo posso garantire continuerò a fare video continuerò a fare il mio lavoro perché il blog per me è tutto il rapporto che io ho creato con voi è qualcosa di meraviglioso e quindi mai e poi mai andrei a togliere una cosa per me stupenda anzi io spero che voi diciamo in questa ulteriore diciamo cosa che farò nella mia vita mi supporterete mi starete vicino aspettate che accendo la luce non è propriamente facile guidare con una mano e tenere l'altra la telecamera lo so che adesso voi cosa mi direte però diciamo che comunque io sono abbastanza attenta sto andando veramente a due all'ora e niente quindi questo era quello che io ci tenivo a dirvi è stata una scelta per me molto importante è un proposito fondamentale nel 2015 oltre modo quello che già sto facendo ed era quello che vi dicevo nei miei auguri di buon anno che ci sono dei cambiamenti in vista quindi uno dei cambiamenti sicuramente è questo perché essere iscritta all'università non è una cosa da poco soprattutto per me che ho questa età diciamo perché era sono giovanissima però non sono diciamo la pischella dei vent'anni che si iscrive all'università quindi sono molto più contenta perché sono consapevole di quello che vado a fare bene detto questo io sto tornando a casa e mi metterò ai fornelli e poi farò spero tutto quello che ho in mente di fare scusate se ho parlato tanto però ci tenevo perché è un modo per questa giornata anche di condividere ciò che faccio con voi eccomi è ritornata a casa e ho anche cucinato ho finito di cucinare per la verità sto finendo la pasta che adesso è diciamo in cottura eccola qua e poi ho vabbè ci sono i peperoni le salsicce che a me piacciono un poco eccole qui un po' bruciacchiate il sugo che sto finendo di preparare e poi ho messo ho fatto le pennette con un po' di ragù e ho preso questa di garofalo le pennette rigate e poi vi volevo dire che ieri avevamo finito questi di carli sapete che sono i cuori di carciofo non so se li avete mai mangiati ma la particolarità è che sono saporitissimi e questi mi sono stati regalati a Natale forse non ve l'avevo detto forse no mi sembra di no nella confezione che le zie di mio marito ci hanno regalato per Natale con l'olio e da questa grande confezione escono tre oli particolari di carli escono poi delle due diciamo tonni proprio della carli e i carciofi più le olive nere che sono veramente una bontà quindi ieri sera li avevo aperti in settimana però ieri sera erano finiti ve li volevo mostrare perché non so se li avete mai assaggiati o comunque se poi potete consigliarmene qualcuno di qualche altro tipo questa è la tavola apparecchiata eccola qui ovviamente per chi non lo sapesse predomina il blu che è il mio colore preferito accendo anche la candela eccola qua e questa come vi avevo fatto vedere in foto è la candela della chrismac cookie scusate l'openda ma è finito scusate perché il mio gatto vorrebbe entrare nel mobile io faccio le lotte con lui che non può entrare comunque un po' per perché l'avevo presa prima di Natale e quindi adesso l'ho accesa veramente da circa dieci giorni abbiamo deciso finalmente il film devo devo dirvi che abbiamo scelto American Sniper mi sono ricordata il titolo e vai sì perché abbiamo pensato che comunque Exodus alla fine ci sarà ancora per un po' di tempo e anche se non andremo a vederlo questa settimana perché comunque partirò ho deciso comunque di vedere questo che secondo me tra poco lo toglieranno e Exodus lo potrò andare a vedere anche la settimana prossima quindi diciamo che oggi mi ritaglio ancora quest'ultima domenica di uno studio perché domani che sentirò il tutor mi saprà dire se l'esame che ho scelto se la dispensa che ho scaricato va benissimo e quindi vi dirò che inizierò poi a studiare però non è che poi una sera per andare al cinema non ci vada però sicuramente oggi che è una domenica dove potevo già iniziare non ho iniziato perché da domani poi che lui mi dirà tutto quello che devo fare inizierò non proprio domani ma sicuramente da martedì in poi a studiare poi il giovedì pomeriggio sicuramente che è il mio giovedì libero perché non ho ancora iniziato la scuola a Napoli studierò e poi niente basta spero che dopo spero di riuscirmi a truccare un po' e fare un video però vi voglio mostrare prima la collezione nuova di Chanel quindi io non so questo vlog poi come sempre ne ho fatti tantissimi ne ho messi veramente uno o due quando lo vedrete io nel frattempo vi auguro buon pranzo vado a mangiare a girare la pasta perché penso che tra poco si pranza per la gente l'abbiamo fatta siamo scesi dopo mille peripezie cioè non vi dico dopo pranzo mi sono messa mi sono messa lo smatto mi sono riposata e anche Rosario è andato a riposare chissà cosa l'ha sognato quando si è alzato era un pazzo furioso nei miei riguardi gli ho chiesto siccome voi avevo fatto anche un video perché vi avevo già detto stamattina che avrei fatto anche un video si è proprio alterato nei miei riguardi che non me li voleva più mettere sappiate che se non metterò più video è colpa sua perché lui si scoccia di aiutarmi a metterli perché dice si dirà perché dice che io non sono capace cioè io mi ho detto allora da premettere che oggi mi ha confessato che avrebbe anche un programma più potente non saprei proprio neanche dirvi quale programma potente possa essere e ha detto che non lo sa usare io mi starei prendendo una laurea starei cercando di provare e prendono la laurea e lui un programma non è manco capace ma lo aprendo a ridere ma mi sono proprio saliti i capelli come dico io in cielo proprio va bene a parte gli scherzi mettere dei video ammetto che non è facile veramente cioè io lo stimo molto perché io non sono capace dico la vera verità e c'è chi è capace e c'è chi no io forse non mi sono mai applicata e quindi non sono capace mi chiedo e mi domando come tutte le youtuber possano mettere i video e ci vuole un'arte di scienze e io l'arte di scienze non ce l'ho almeno so questo poi se voi mi chiedete trucca qualcuno mettici gli affinte fai un contouring fai tutto quello che vuoi sono capace di farti tutto ma questo non è proprio l'arte mia comunque alla fine andiamo a vederci questo American Sniper chissà com'è speriamo bene l'ultima volta vabbè l'ultima volta questo non era male il film qual era? non mi ricordo neanche no non stava cercando di ricordarsi anche lui no siamo andati a vedere quello lì con Ben Affleck mamma del Carmen non mi è proprio piaciuto scusate ha fatto così con la mano per dire maronna scusate questo attacco di ricciata acuta mentre sto con voi però è bello perché uno vede ci siamo andati a vedere quello lì del game a me quello lì comunque che vabbè dei computer comunque Enigma ecco bene bene e allora mio marito si è messa a vedere un altro bel film siamo andati a vedere no però quello gli è piaciuto un po' doppio ma questo allora tutti e due lo volevamo vedere quindi penso che poi comunque vi farò sapere vedrete dalla mia faccia dopo quando usciremo dal diciamo dal cinema cosa abbiamo come ci è sembrato Red usci da tre ore di film e adesso stiamo tornando a casa devo dire la verità scusate un po' diciamo di la strada è un po' come dire un po' piena di di fossi comunque il film alla fine mi è piaciuto c'è stato un momento in cui era un poco poco pesante devo dirvi la verità poco proprio pesante però è finito veramente in un modo di una tristezza infinita non ve lo voglio dire perché se lo volete andare a vedere per me merita la regia di Clint Eastwood è qualcosa di eccezionale quindi veramente ne vale tutto lui vabbè bello bravo lei anche molto carina devo dire però è una storia comunque vera cioè lui alla fine purtroppo è finito nel 2013 cioè io non avevo idea cose cose assurde beh non devo raccontare ma non devo dire questo non mi sto raccontando tutta la scena tutti i film comunque vi consiglio di andarlo a vedere diciamo che da fine anno che stiamo andando più spesso al cinema perché riesco a convincere anche Rosario ad andarci incredibile ma vero non c'è stato un film che diciamo sia stato divertente o carino cioè carino sì sicuramente voi direte ma che sei andato a fare a vedere un film se non era divertente eh lo so va bene però comunque e niente adesso torniamo a casa e ci prepariamo perché tu domani devi alzare presto e io gli devo preparare la colazione e tutto si vuole inserire deve stare alle 8 e 30 alle 8 e mezza a via terracina a terracina e perché deve puoi fare un lavoro lì quindi si deve alzare presto e niente quindi io spero che questo mini vlog o comunque vlog della giornata vi sia piaciuto vi ho portato un po' con me anche nella mia celletta è stata una giornata un po' diversa al solito e io diciamo mi avete fatto compagnia e come voi avete fatto compagnia quindi è stata almeno per me una cosa reciproca vi mando un grande bacio vi auguro una dolcissima notte e noi ci vediamo presto buonno un morbissimo video buonanotte ciao